Ben ritrovati gentili telespettatori, lo speciale TG che come sapete ormai da alcune settimane è dedicato alle elezioni amministrative di Perugia, è venuto a trovarci il candidato Leonardo Caponi, Partito Comunista, Perugia contro guerra e neoliberismo. Buonasera e grazie a lei e ai nostri speriamo numerosi telespettatori. Speriamo davvero, intanto Leonardo Caponi giornalista, scrittore politico, senatore, perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Perugia? Intanto non l'ho deciso io da solo, nel senso che insieme ai compagni del nuovo Partito Comunista italiano e ad altri amici ed elettori abbiamo valutato e deciso di mettere a disposizione della nostra città che vive un momento difficile, una esperienza come la mia credo consolidata e lunga perché, la dico con una battuta, i sindaci non si inventano, questo nuovismo imperante per cui uno viene candidato a un incarico in quanto è stato più lontano e più estraneo possibile all'incarico al quale viene candidato. È un conto che non mi torna, insomma, se io mi devo far operare vado in una sala operatoria dove c'è un chirurgo che sa usare il bisturi. Questo non è un effetto che si vede solo in politica però, questo? Come? Non è un effetto, una moda che è solo della politica però? No, però, insomma, adesso io credo che la politica non si inventa, il problema è che oggi non esiste più la politica, questa oggi esiste, se mi consente, e veniamo ad un altro argomento, quella che io definisco la politica liquida e noi chiediamo ai nostri elettori, prima ancora che per i nostri programmi, per la visione del futuro che noi abbiamo, un voto contro la politica liquida, cioè contro la politica dove tutti sono uguali, dove non ci sono più ideali, non ci sono più appartenenze, non ci sono più partiti, dove è possibile tutto, è possibile governare oggi con la destra e poi passare indifferentemente da un'altra parte. Io penso invece che la politica deve esistere, penso ancora che lo strumento fondamentale, della democrazia siano i partiti, perché senza i partiti esistono le lobby, io ricordo un tempo nel quale i partiti selezionavano la classe dirigente, io sono stato candidato, io vengo dal Partito Comunista Italiano, sono stato candidato la prima volta dopo anni, diciamo così, di gavetta, nella quale il partito insieme ai contatti sociali, mi aveva o aveva tentato di darmi le armi per affrontare le situazioni che io avevo davanti. Adesso invece tutto questo non esiste e secondo me c'è stato uno scadimento serio del ceto politico, adesso non è che lo dico con presunzione, perché io non devo chiedere più niente, la mia vicenda politica istituzionale è stata lunga e anche con alti e bassi soddisfacente, però ai miei tempi certi dirigenti che oggi vanno per la maggiore non avrebbero fatto nemmeno i segretari delle sezioni, proprio perché in questa politica dei tutti uguali tutti i gatti sono bigi. Che voglio dire la politica dei tutti uguali? Voglio dire che oggi indipendentemente da chi va al governo del Paese, della Regione, della nostra città, sia a destra, centro, sinistra, tutti sono sostanzialmente obbligati a praticare la politica che io chiamo euroatlantista, che è dettata dall'Unione Europea e dall'appartenenza del nostro Paese nel blocco atlantico, e cioè una politica estera, a mio giudizio guerra fondaglia, una politica economica liberista, nella quale va al governo il PD, va al governo la Meloni, va al governo chiunque altro, bisogna fare le liberalizzazioni, le privatizzazioni, tagli draconiani alla spesa pubblica, precarizzazione del lavoro, riduzione del costo del lavoro, riforme sociali che hanno drammaticamente abbassato il livello della protezione sociale e anche il livello di vita delle persone nel nostro Paese. E su questa politica, poi le lascio la parola, è una politica bipartisan, non è che si può dimenticare che la peggiore riforma delle pensioni nel nostro Paese, quella che manda in pensione, la gente ha 70 anni e che negherà la pensione per i nostri giovani, l'ha fatta il governo sostenuto dal PD, l'articolo 18 l'ha tolto il PD, lo smantellamento dei diritti dei lavoratori, fondamentalmente l'ha fatto il governo Renzi che era un governo del PD, adesso loro dicono, hanno fatto anche la lista a Perugia della sanità, Perugia per la sanità pubblica, però voglio dire che la sanità italiana è stata tagliata dal 2013 al 2019 per 38 miliardi, la maggior parte di questi tagli l'hanno fatto i governi o voluti o sostenuti dal PD, in Umbria la privatizzazione della sanità non è cominciata con la T6, è cominciata la prima, perché la riduzione delle spese sanitarie, la riduzione dei servizi, le file di attesa per le visite mediche, le convenzioni con le cliniche private, io voglio che la T6 e come si chiama l'assessore alla sanità vadano via, ma c'erano prima, ma non scherziamo, allora noi vogliamo rappresentare un'alternativa di sinistra a questo governo liberale bipartizzante. Ma Perugia in questo contesto che città è, di che cosa ha bisogno? Perugia intanto, veniamo al nostro programma, noi poniamo in capa tutto la questione della pace della guerra, ho sentito un po' inorridito dire, dice Caponi, ma la guerra che c'entra col programma comunale, ma come la guerra non è una questione, se scoppia la guerra Perugia sta sulla luna, oppure si ignora che adesso appena cominceranno le produzioni del nuovo missile Vulcan allo spolettificio di Spoleto, come ha annunciato il ministro Crosetto della difesa, l'Umbria automaticamente diventa bersaglio di ritorzione da parte di un'eventuale guerra scatenata con la Russia. Allora, io penso che oggi il nostro paese, l'Europa, ma il mondo danzano sull'orlo di un abisso, dove ci può essere l'esplosione di una guerra che potrebbe essere l'ultima, perché se scoppia una guerra nucleare va a rischio l'esistenza del genere umano. Allora, noi diciamo, primo, non serve chiedere una pace generica, affidata alla buona volontà dei belligeranti, bisogna togliere di mezzo le radici vere, le cause di questa crisi. Allora, primo, spegnere il focolaio ucraino. Noi chiediamo che Perugia si schieri con le istituzioni che chiedono il blocco immediato delle forniture belliche all'Ucraina. Secondo, noi chiediamo che Perugia chieda che l'Italia rimetta in discussione la sua appartenenza alla Nato e che esca dalla Nato. Terzo, chiediamo un drastico ridimensionamento delle spese militari. Quarto, siamo senza sé e senza ma dalla parte del martoriato popolo palestinico. Il nostro capolista è un palestinese, un medico, un chirurgo che opera all'ospedale di Branca che abbiamo messo nella lista proprio per dare il segno tangibile del nostro essere, come come si dice oggi, senza sé e senza ma, con i palestinesi. Secondo punto, l'idea forza del nostro programma è quello di cambiare il modello di sviluppo della nostra città, cioè un modello di sviluppo, anche questo che non è recente, che viene ormai almeno da due decenni, che è stato fondato unicamente sulle grandi concentrazioni e costruzioni residenziali e sui grandi centri commerciali e che ha provocato una disarticolazione della nostra città. Per esempio, lo svuotamento del centro storico, la creazione di quartieri monstre, che addirittura hanno stravolto la vita anche delle nostre storiche frazioni e che ha prodotto anche una meridionalizzazione di Perugia. Perugia e l'Umbria storicamente hanno occupato un confine tra il nord sviluppato e il sud arretrato. Adesso, se si guardano tutti, a un bel dire il sindaco Romizzi, che tra l'altro andava a scuola con mia figlia, per cui sono anche amico, però a un bel dire oggi tutti gli indicatori economici di Perugia spingono la nostra città e l'Umbria verso il sud. Oggi Perugia, lo dico anche accuratamente ai nostri concittadini, nonostante tutti questi grandi centri commerciali, è una delle città con il più alto costo della vita d'Italia e con i stipendi e i salari tradizionalmente inferiori alla media nazionale. Allora, noi diciamo, basta con questa politica cemento e mercantilismo. E dove bisogna andare? Bisogna tentare intanto di ricostruire un tessuto produttivo, fatto di piccole, medie imprese artigiane, aprire la frontiera di una… perché è impossibile una reindustrializzazione della nostra città e della nostra regione? Questo è un altro punto determinante. Poi utilizzare meglio certe risorse, penso all'università, penso appunto alle straordinarie bellezze culturali, risorse culturali che non siano tutte concentrate in questa ossessione del grande commercio che poi diventa anche… come fanno a sopravvivere questi… sono più i centri commerciali e gli abitanti, ma vuol dire che lì ci sono i capitali della mafia che vengono riciclati, ma non c'è dubbio. E Perugia diventa terreno anche della malavita. Allora, lei mi deve permettere due cose. Noi siamo contrari all'Arena Curi. Avrei fatto anche questa domanda perché… Perché l'abbiamo fatta tutti i candidati. Io sono dell'opinione che lo stadio va naturalmente ricostruito, però l'Arena Curi è un'altra cosa, l'Arena Curi è una nuova città che si insedia a Pian di Massiano. All'Arena Curi sono previste, io credo come minimo, altri 50-60 mila metri cubi. C'è l'albergo, ci sarà l'ennesimo supermercato, gli uffici. Diventa appunto un'America città che avrebbe un effetto devastante sia su quell'area. A voi a dire, ma manteniamo il carattere ambientale, ma scusa quando tu ci porti un traffico quotidiano come quello che verrà, ma quale vocazione ambientale difendi? Punto secondo, noi siamo contrari al raddoppio dell'ipercoppa con le strada. Io non so se è chiaro quello che accade lì, l'attuale ipermercato viene più che raddoppiato, alcune altre migliaia e migliaia di metri quadrati. Va a finire, me lo consenta, che dopo a con le strada, tra il raddoppio del supermercato, ci fanno la stazione, c'è l'aeroporto a due passi, ci portiamo la fontana maggiore, il grifo e il leone e andiamo tutti a stare a con le strada. A proposito di questo, il nodino? Noi siamo contrari al nodino perché così come è previsto è inutile, perché il nodino ha un senso se riesce a circunnavigare la nostra città sbucando sul raccordo per Firenze. E sarebbe il nodo in questo caso? Ma se il nodino serve soltanto a superiare il ponte San Giovanni è una cosa inutile, c'è un lavoro che sconvolge la natura ma toglierà, io credo, una percentuale molto irrisoria del traffico, per cui, ripeto, noi siamo per attenerci ai dati tecnici, però allo stato attuale i dati tecnici dicono che il nodino non è utile. E lo stesso dicasi per il metrobus, questo percorso che dovrebbe partire da Castel del Piano, fare via Settevalli, ma si ipotizza un traffico giornaliero di 16 mila persone. E qui non siamo più alle ipotesi perché siamo ad un progetto di ormai in fase... Ma bisogna che questo progetto in qualche modo vada rivisto, vada fermato, vada riconvertito, ma com'è pensabile a un volume di passeggeri di 16 mila persone al giorno? Tra l'altro molti nemmeno rinunceranno all'uso dell'automobile. E quindi, ecco, l'altro punto, poi mi dici del minimetro. Sì, del minimetro, è che io non partecipo a questa gara del faremo questo, faremo l'altro, prometto questo. Io penso che subito dopo le elezioni, chiunque vinca, bisogna mettersi attorno a un tavolino e fare una verifica e una revisione delle aspettative di espansione della nostra città e commisurare rispetto a quelle lo sviluppo urbanistico, commerciale e infrastrutturale di Perugia. Ma questo non dovrebbe essere già stato fatto in un percorso di questi anni? No, 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 assolutamente. Quindi, adesso vorrei dire, l'altro ieri la comunità europea ha deciso il ripristino dei parametri di Maastricht, il che vuol dire che torna alla politica del rigore. Alcuni giornali hanno scritto che ci aspettano anni di lacrime e sangue. Non è che Perugia, anche qui, come per la guerra, sta in un altro mondo. Se viene la politica del rigore, anche Perugia vedrà una compressione… Che poi è quella pre-Covid e post-crisi 2008… Vedrà una compressione già degli attuali livelli di investimento, di ricchezza a disposizione, di risorse. E io credo anche, anche per questo noi siamo contrari a quei faraonici progetti di sviluppo e urbanistico che le dicevo. Oggi Perugia è una città che ha 160 mila abitanti e nonostante una crescente popolazione di stranieri, sono quasi 20 mila, noi abbiamo messo 9 candidati di tutte le componenti etniche presenti a Perugia, non a caso. Nonostante questi Perugia perde popolazione. E allora noi non è che possiamo fare delle cattedrali nel deserto. Se ritorno lì all'Arena Curi, l'Arena Curi sarebbe un'altra Monteluce, un altro investimento prefigurato per chissà quali prospettive di sviluppo che si rivelerebbe come dire del tutto sovradimensionato alle possibilità della nostra città. Allora invece che costruire altre colate di cemento, ma perché non reinterveniamo per… Su Monteluce, dici? No, Monteluce ormai è quello… io ci farei un grande parco adesso a Monteluce, lascerei le costruzioni che ci sono e ci farei un grande parco. Ma reinterveniamo sull'usato, sul patrimonio degradato. A Perugia ci sono numerosi e grandi contenitori, sia pubblici che privati, che andrebbero ristrutturati, recuperati, utilizzati. Io adesso mi faccio a fare un esempio, anche il Comune o altre istituzioni cercano gli uffici. Lei lo sa che c'è lo stabile dell'ex Impedap, via Cacciatori delle Alpi, rimesso a nuovo pochi anni fa dall'Impedap con una spesa di svariati milioni e che è attualmente vuoto? Ma perché non si prendono come dire gli uffici comunali, gli uffici del catastro e si mettono lì non andando a… Appunto, a Monteluce. Hai fatto Monteluce per un uso che già poteva essere soddisfatto utilizzando il patrimonio esistente. Ma allora, le altre forze politiche che dicono? Lei ha sentito i candidati dire qualcosa su queste cose? No, sono tutti promesse, fiabe, no? L'amore, un viaggio meraviglioso, oh quant'è bella, diciamo così, la nostra città, ma non basta questo, Perugia ha bisogno di scelte politiche, serie. Minimetro è bello, ma cosa ne facciamo? Minimetro, io a suo tempo fui favorevole perché era un mezzo ecologico, però il Minimetro era commisurato al fatto che venisse invertito il processo di espulsione dal centro storico verso la periferia, doveva servire a portare anzi la periferia nel centro storico. Certo, adesso è un problema, ma io credo che in qualche modo bisogna fare fronte, non è che possiamo smantellare il Minimetro, no? Bisogna fare in modo, io credo, riportando funzioni, riportando abitanti, riportando uffici, riportando residenzialità stabile al centro storico, che il Minimetro assolva quella funzione per la quale era nato, cioè di portare la gente dalla periferia al centro, più che dal centro verso la periferia. Faccio fare una parentesi, al di là della sua grande passione per la politica, quali sono le altre passioni? Io sono il tifoso del Perugia, andavo al vecchio Santa Giuliana, addirittura salivamo sopra alle piante, ha visto il muro dei viagghiacciatori dei perveni, sono il tifoso del Perugia e penso che con questa presidenza il Perugia è condannato a vivacchiare malamente, adesso non nascondiamoci dietro un dito, noi tutti pensiamo al ritorno del Perugia in serie A, questa è la questione, puoi fare un po' la spola tra l'A e la B, con Santo Padre in serie A non ci si torna, allora se io fossi sindaco mi impegno, nei limiti di quello che è possibile, a svolgere un ruolo attivo per trovare dei compratori seri, seri, perché il calcio è il mondo dei speculatori, dei compratori seri al Perugia, nel contempo tanto di cappello al Presidente Sirci, il quale ha conseguito uno straordinario successo, che illustra tutta la città, tra l'altro la pallavola è uno sport, me lo lascia dire così, più pulito del calcio, perché? E' perché intanto perché ci sono le televisioni che fanno vedere effettivamente… Il video check? Il video check. Ormai c'è nel calcio… No, ma io credo che neanche con il VAR il calcio sia completamente moralizzato, perché lì agiscono una mole di affari, di soldi che lo rende… infatti vincono sempre quelli che hanno più soldi, che sono anche favoriti, adesso noi celebriamo il Real Madrid, il Barcellona, ma sono squadre forti, ma che sono anche favorite, favorite dai regolamenti, dagli arbitri, da una serie di circostanze. La pallavola è più pulita. Sì, la pallavola è più pulita, non c'è dubbio. Tra l'altro c'è un giocatore che è Vilfredo León, è un cubano. Lei ha grandi rapporti con cui? Sì, io vado tutti gli anni a Cuba per turismo, ma anche perché sento una solidarietà verso quel paese che è strozzato dal predominio americano, dalle sanzioni che lo tengono così. León, come l'altro Herrera, non è che sono grandi campioni, sono prodotti della grande scuola della pallavolo cubana. Su questo non c'è dubbio, ma io adesso non è che voglio portare Cuba, tra l'altro sta attraversando anche un periodo molto difficile, però per esempio, mi lasci dire un'altra cosa. Però León ha dovuto giocare per, deve giocare, o meglio, deve, ha scelto di giocare per la Polonia dopo matrimonio. Eh beh, ma l'Ampola hanno anche mandato via, ma comunque vorrei dire, c'è questa storia delle file, delle visite mediche, gente che aspetta mesi, io ho avuto la madre di un mio amico che era anziana, che aveva uno scompenso cardiaco, l'hanno tenuta 11 ore al pronto soccorso, ma perché non si fanno venire i medici cubani? E in 4-4-8 sono bravi, utilizzano le nostre astrezzature per un periodo temporaneo, sfoltiamo queste file, non lo si fa perché c'è una discriminazione politica, perché appunto per la sanità non si spende, questa è la verità, voglio adesso a dire, per la sanità così come per tutti gli altri servizi, se non c'è una ripresa massiva della spesa pubblica, massiccia della spesa pubblica, ma non si potrà fare niente, vorrei dire all'assessore Scoccia, la quale dice ma noi abbiamo investito, ma è poco, cioè quando l'assessore Scoccia dice che loro hanno fatto sacrifici eccetera eccetera, ma per le esigenze di soli investimenti infrastrutturali della nostra città, quello che hanno fatto è niente, è come quando al lago Trasimeno mancano un metro e mezzo d'acqua e dal moltedoglio se ne portano 10 centimetri, non è che ci vorrebbe e così vale per la spesa pubblica, ma bisogna rovesciare una concezione, che è la concezione liberista che io dicevo prima, e cioè ritornare a un rilancio della spesa pubblica, a una socialità, mi fa dire un altro esempio, poi dobbiamo chiudere, sì poi chiudiamo, Perugia aveva un grandissimo patrimonio di imprese municipalizzate, le farmacie, i parcheggi, l'immondizio eccetera, che tra l'altro non soltanto funzionavano bene, ma portavano anche soldi al comune, guadagnavano, adesso sono state privatizzate e è stato spogliato il nostro comune da risorse fondamentali, vorrei dire, lei lo sa che la società, è certo che se io fossi sindaco, certo che torniamo indietro, osteria, guadagniamo noi, no i padroni del vapore, che vengono come la società delle multe, ma lei lo sa che la società delle multe è spagnola? E che i soldi delle multe che paghiamo noi non vengono a noi, ma vanno alla Spagna? Dei parcheggi dice? No, anche delle multe, non dei parcheggi, è giusto questo? E che dicono le altre formazioni politiche su questo? Allora vede che poi dopo c'è l'ultima cosa per la quale noi ci battiamo, noi vogliamo ricostruire anche a Perugia una sinistra, quello che non c'è più, quello che non è più la sinistra, ma il polo progressista, quello che candida la dottoressa Ferdinandi, non è una sinistra, quello è con tutto il rispetto, è un polo liberal progressista, la dottoressa Ferdinandi nomina nel suo staff, credo presumibilmente prefigurando che vada a fare l'assessore al bilancio, una delle sottosegretarie, anzi la sottosegretaria del governo Draghi alla economia e alle finanze, l'agenda Draghi viene a Perugia, questa non è sinistra, io immagino un'altra politica, non è che come dire anche a Perugia trasferisco la politica del rigore per tutte le cose che ho detto e per altro verso il centrodestra, la scoccia vuol nominare assessore alle finanze un'altra iperliberista, allora mi spiega perché io dovrei votare per una delle due? Io nel nostro piccolo vogliamo rappresentare un'alternativa, detto questo naturalmente se si va al ballottaggio, noi voteremo per la dottoressa Ferdinandi, voteremo per la destra perché voteremo per la meno peggio, però anche questa storia che noi e il sottoscritto aiuterebbe la destra è una cosa, me lo lasci dire, per me è anche inaccettabile, poi i più accaniti sono gli ex gruppettari, ho finito, e gli ex comunisti, Caponi tu aiuti la destra, ma come sarebbe a dire? La nostra lista che è l'unica che ancora mostra insieme agli altri simboli la falce e il martello aiuta la destra? Io che il mio povero papà mi ha fatto la tessera della Federazione Giovanile Comunista Italiana a sei anni aiuto la destra? Ma come sarebbe a dire? E io mi sento fare queste accuse da chi in questi anni ha abbandonato tutti i valori della sinistra, ma io ripeto, non voglio polemizzare, però questa storia del voto utile, ha capito come funziona il voto utile? Che io per evitare che vinca una persona devo votare un'altra persona anche se questa persona non mi piace, ma perché? Dobbiamo chiudere su queste parole. Grazie, scusi se ci metto un calore particolare, ringrazio la vostra televisione che ci dà una possibilità particolare. Grazie a Leonardo Caponi, candidato sindaco di Perugia per essere stato con noi, grazie a voi per averci scelto e seguito, se lo volete lo Speciality G torna la prossima settimana. Grazie, arrivederci, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.